Musica Benvenuti al Meteo di Telenuova, domani e domenica 7 ottobre la chiesa celebra la Beata Vergine del Rosario. Perturbazione contro le Alpi, piogge nevicate sulle cimme dei monti, maltempo su Val d'Aosta, Alto Adige su tutto il fronte delle Alpi orientali, rovesci anche sul Friuli Venezia Giulia, qualche pioggia anche sull'Alta Toscana, con piovaschi entrosera su Umbria e Ascolano Sud Marche. Continueranno i rovesci sulle Alpi orientali e l'Alto Adige, sole e anche caldo invece altrove, attenzione, nella notte ingresso della Bora e peggioramento dalle Marche alla Pui e anche i contemporali, locali rovesci sulla Campania verso la Calabria. La pressione atmosferica è prevista in diminuzione contestualmente all'arrivo di masse di aria più umida provenienti da Ovest. Temporaneamente si indebolirà l'anticiclone delle Azzorre, il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso e sereno, nel corso della giornata arriveranno addensamenti nuvolosi anche estesi che copriranno il cielo su molte zone, la probabilità di isolati piovaschi sarà bassa. Temperatura in lieve diminuzione, valori diurni, venti deboli di direzione variabile con locali rinforzi da Ovest, il mare mosso.